Si aspettava questa polemica? No, assolutamente non me l'aspettavo perché conoscevo la delibera 98 del 2020 che riguarda appunto il rendiconto 2019. Il Comune di Sciacca, non certo perché lo dica io, ma perché lo dichiara la stessa giunta e lo stesso primo cittadino unitamente al Segretario Generale e al Direttore di Ragioneria, è strutturalmente deficitario, non per le ragioni dette ieri dal Sindaco, che non hanno alcuna attinenza né sul piano argomentativo né sul piano quantitativo con lo sforamento dei parametri previsti dal Ministero degli Interni, ma è strutturalmente deficitario perché è stato sforato un parametro completamente nuovo rispetto al passato, che è quello attinente al rapporto tra il disavanzo di amministrazione e gli accertamenti relativi alle entrate correnti. Un rapporto che avrebbe dovuto essere dell'1,20% e invece è arrivato al 3,50% circa, perché tra il 2017 e il 2018 questo disavanzo si è incrementato di oltre 600.000 euro. Per manovre di bilancio compiute dall'amministrazione Valenti, sulle quali io non entro nel merito perché sono manovre compiute da altra amministrazione. Il parametro dei debiti fuori bilancio, così come anche l'anticipazione di cassa, è un parametro che è sempre stato molto elevato al Comune di Sciacca. L'anticipazione di cassa perché altrimenti noi non potremmo far nulla, perché tra le entrate da trasferimenti che arrivano con grande ritardo e le entrate tributarie che vengono riscosse soltanto in alcuni periodi dell'anno, se non ci fosse l'anticipazione di cassa noi non potremmo assolutamente far nulla. Non è anche pagare gli stipendi. Esatto, e quindi siamo sempre in anticipazione che poi, come ieri ha detto correttamente il Sindaco, poi vengono azzerati dalle entrate. I debiti fuori bilancio sono un dato che ogni anno ci porta a riconoscerne un numero considerevole perché purtroppo provengono da tutta una serie di avvenimenti che non hanno nulla a che vedere con quello che ha detto il Sindaco. Riguardano grossi incidenti stradali dove si sono verificati ingenti danni, riguardano eventi naturali che sono stati addebitati al Comune di Sciacca nel tempo e hanno riguardato ingenti danni, cause che si concludono con la sconfitta e quindi diventano sentenze esecutive. Tanto vero che nel rendiconto 2019 viene riconosciuto un dato di un milione di euro di debiti fuori bilancio finanziati e pagati. Quindi le due vicende che ha ricordato il Sindaco, la SIAE e l'Eterna, che riguardano comunque servizi resi e che sono quantitativamente di importo infinitesimale rispetto a quello che è il dato e debiti fuori bilancio, non ha nulla a che vedere con lo sforamento di quel parametro. Sono fatti che sono disancorati dalla realtà, quindi è una polemica gratuita che si sarebbe potuta evitare, soprattutto se poi al termine della sua intervista il Sindaco lancia una sorta di appello all'unità che non ci potrà mai essere in queste condizioni, perché fin quando non si dirà la verità sulle cose che sono accadute nella mia come nelle altre amministrazioni, io non credo che ci possa essere collaborazione di alcun tipo. Io credo che questo progetto sia fallito dopo il primo anno di amministrazione, cioè quando la giunta viene azzerata, quella che è stata presentata agli elettori e si cambia completamente quel contesto, secondo me in quel momento il progetto è fallito. E questo le dico, non ha una rifluenza solo di natura elettorale, di natura di consenso popolare, ha una rifluenza amministrativa, perché se io in tre anni cambio non so quante volte l'assessore al bilancio, ad esempio, e quindi non consento la valutazione di questi monitoraggi, di questi controlli, cambio per ben tre o quattro volte l'assessore ai rifiuti e non consento il controllo di gestione su quello che sta accadendo, allora io penso che ci siano delle questioni politiche piuttosto serie che debbano far riflettere coloro i quali ritengono il dovere sostenere ancora questa amministrazione.